Alvia La Kermess è dedicata al buon cibo, al movimento e alla sana alimentazione organizzata da Cesena Fiera nei propri padiglioni. Il titolo è Wellness Food Festival. Abbiamo sfruttato quest'occasione di questo nuovo evento che si rivolge ad un pubblico di consumatori attenti, che è quello del Wellness Food Festival, per organizzare un vero e proprio forum che potrebbe essere un appuntamento dove abbiamo voluto dare dei contenuti scientifici perché ognuno di noi ha le proprie informazioni, basta guardare in internet e tutti abbiamo l'informazione davanti a noi però spesso non riusciamo a capire bene cosa concretamente uno debba fare, cosa deve fare per essere in forma per mangiare in maniera corretta. Quindi con un paio di relazioni di tipo scientifico abbiamo voluto cercare di rendere proprio a una persona normale, però attenta a quello che mangia, diciamo quali sono le regole basiche a cui seguire. È la cultura del cibo allora che ci garantirà un benessere? Sì, la cultura è quella che ci salverà. Facendo formazioni, informazioni, spiegando, cercando di far capire qual è la differenza tra un cibo sano e un cibo che invece non ci dà nessun'altra emozione se non quella di riempirci lo stomaco, avremmo vinto. E l'input per questo cambiamento nasce proprio qui in Romagna, al Wellness Food Festival. Sì, ma perché bisogna essere, è stato detto anche prima in sala, un po' visionari, no? Bisogna pensare, credere in un sogno, in qualcosa che si può realizzare e che possano beneficiarne tutti. Quello è il segreto.